Siamo qui per disputare questa partita di calcio tra l'Istituto Luigi Sturzo e l'anti-racket. Scopo della partita naturalmente è quello di creare un messaggio, messaggio della legalità, quindi rispetto alle regole, la convivenza civile e questo è importante perché il gioco del calcio si presta a questo tipo di obiettivo. Tra l'altro è condiviso anche dalla scuola perché già in passato ha realizzato diversi progetti. Diciamo che insieme a questo scopo della partita è anche la solidarietà perché viene raccolto un euro al ragazzo quindi la somma verrà poi devoluta all'Associazione Misericordia che la devolverà insomma alle famiglie bisognose e coloro i quali hanno problemi e quindi con questa partita raggiungiamo questi due scopi, solidarietà e il messaggio della legalità. È uno spettacolo oggi vedere in campo i giocatori dell'istituto commerciale e dell'alberghiero perché sono animati dallo spirito veramente che hanno della legalità e quindi assieme alla nostra associazione anti-racket che poteva esserci di meglio se non formare queste due squadre all'insegna proprio del rispetto delle regole. Quindi vediamo in campo i nostri giocatori, li sto vedendo onestamente un pochettino appesantiti, però devo dire che l'istituto commerciale e l'istituto alberghiero hanno non solo ragazzi preparati, ragazzi veloci, certo giovani, ma anche loro professori devo dire che sono veramente sanno giocare. Quindi oggi questa giornata la vogliamo dedicare proprio a tutti coloro che devono rispettare le regole tramite lo sport che lo sport è legalità e non discrimina. Questo è ormai il nostro slogan.